Il monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni non è una cosa necessariamente sbagliata e io lo dico perché la lista d'attesa è un sintomo di un malessere del funzionamento del sistema sanitario. Perché è un sintomo? Perché praticamente riflette uno dei problemi centrali su cui si misura un sistema sanitario che è l'accessibilità, l'altro è l'equità, ma le due cose sono connesse l'una all'altra perché l'accessibilità è il tempo che passa, al momento il cittadino ha bisogno di vedere un medico e quando poi effettivamente lo vede, è il tempo che passa dal momento in cui vede il medico e ha la diagnosi il momento dalla diagnosi alla terapia agli effetti della terapia e questo si misura l'accessibilità. Dopodiché se ci sono asimmetrie di accessibilità si presenta anche un problema d'equità che si manifesta con differenze di aspettativa di vita e di qualità della vita. Quindi va bene le liste d'attesa ma sarebbe molto più opportuno estendere per avere una misura puntuale perché poi a che ci serve misurarlo se poi non riusciamo a incidere? Allora qual è la misura? La misura effettivamente sono quattro soldi, tra altre cose dati ai privati quindi di fatto aggravando il costo del servizio sanitario nazionale. Perché le spiego, se una prestazione costa 100 all'interno del servizio sanitario se la dai ai privati costa 180 quindi di fatto costa molto di più e ottieni di meno. Grazie mille. Grazie mille.